A Campobasso nella notte va a fuoco un appartamento, muore un bambino di 9 anni ricoverati, gli altri componenti della famiglia forse un cortocircuito. Residenti ancora più preoccupati per le raffiche di furti che non accenano a diminuire, la popolazione chiede ai prefetti misure più restrittive per arginare il fenomeno. A riaccendere riflettori sulle criticità legate al trasporto pubblico urbano e la CGL, che chiede al governatore Roberto un impegno preciso per risolverle in via definitiva. Il Campobasso vince anche con il Chiedi e vola in testa la classifica in solitaria, il Termoli si fa rimontare dall'Aquila solo un pari invece per il vasto Girardi a Tivoli. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione quotidiana di TLT, in apertura alla pagina di Cronaca che ha visto una tragedia consumarsi questa notte a Campobasso in Contrada a Colle Calcare dove è divampato un incendio all'interno di un appartamento a perdere la vita un bambino di 9 anni. Vediamo. Tragedia nella notte incontrata a Colle Calcare a Campobasso intorno a Luna, un violento incendio divampato all'interno di un'abitazione e un bambino di 9 anni ha perso la vita, probabilmente perché ha sfissiato. La mamma di 35 anni, il fratellino di 12 e la sorellina di 4, quest'ultima sarebbe in condizioni più serie, sono stati invece ricoverati in ospedale. Secondo le prime informazioni, a lanciare l'allarme sarebbe stato il papà che è riuscito a portare all'esterno i figli mentre stavano arrivando i soccorsi. I primi ad arrivare sul posto per domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco che hanno provato a rianimare il bambino ma senza risultati. Il bambino sarebbe morto poi nel sonno per asfissia. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, carabinieri e polizia, al lavoro per risalire a cosa abbia scatenato il rogo. La mamma e gli altri due figli sono stati trasportati all'ospedale Cartarelli di Campobasso, stando a quanto emerso finora la donna e il fratello più grande sarebbero ricoverati nella struttura sotto stretta osservazione del personale medico, mentre a riportare le conseguenze peggiori sarebbe stata la bambina di 4 anni trasferita in serie condizioni all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli per intossicazione da fumo. I medici stanno valutando se trasferire anche la 35enne in un centro specializzato per ustionati date le gravi ferite, provocate dalle fiamme alle braccia e al collo della donna. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e in corso le indagini per ricostruire le ragioni che hanno portato all'incendio con la presenza sul posto, anche del magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima, al momento all'obitorio dell'ospedale Cartarelli. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito, mandando a fuoco il divano e il salotto per poi propagarsi insieme al fumo nel resto della casa. E paura questa mattina alle porte di Campobasso dove intorno alle 9 un furgoncino è andato a fuoco lungo la strada provinciale 58 in territorio di Ferrazzano, precisamente nei pressi della rotonda che porta al paese. Per cause che saranno accertate dalle autorità competenti, un Fiat Doblo è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Il conducente ha fatto in tempo ad abbandonare l'abitacolo e a mettersi in salvo. Immediata la chiamata al 115, i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso sono giunti prontamente sul posto ed hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere l'aria in sicurezza. Nessuna conseguenza per il conducente del furgoncino che ha rimediato solo tanto spavento. E non accenna a diminuire l'ondata di furti in case isolate nelle due province. La preoccupazione dei residenti sale, sono attese misure più severe dalle prefetture. Ladri in azione in basso molise nelle ore serali, quando con il calar delle tenebre è più facile muoversi senza essere scoperti facilmente. Per ora nelle incursioni nelle abitazioni sul litorale adriatico, la refurtiva svaliggiata dai ladri è stata molto contenuta, ma l'inquietudine degli abitanti è salita a livelli di allarme sociale vero e proprio. Il fenomeno dei furti nelle abitazioni sembra non arrestarsi più nell'intera regione. Nel mirino dei malviventi sono finiti ultimamente i paesi di Mafalda e Montenero di Bisaccia. La tranquillità tra i residenti dei due centri costieri è stata messa a dura prova nelle ore scorse. Villette isolate sono quelle bersagliate da una banda organizzata, sembra di almeno quattro persone tutte incappucciate, capace di far perdere le proprie tracce all'arrivo delle forze dell'ordine. In alcuni casi la pronta reazione dei proprietari è impedito ai malviventi di completare le rapine. secondo gli accertamenti dei carabinieri potrebbe essere la stessa banda muoversi rapidamente da un paese all'altro, nonostante le rassicurazioni che arrivano dalle prefetture di Campobasso e Isernia. È dilagante il fenomeno dei raid in case appartamenti nelle due province. Esattamente 50 anni fa a Roma, nell'attentato ad opera dei palestinesi all'aeroporto di Fiumicino, morivano 32 persone. Tra le sei vittime italiane c'era anche il giovane finanziere Antonio Zara, originario di San Felice del Molise, che perse la vita proprio mentre cercava di fermare i terroristi. Nel suo paese natale la cerimonia di commemorazione in presenza delle autorità civili e militari. Nel suo paese natale la cerimonia. Sono passati 50 anni dall'attentato all'aeroporto di Roma Fiumicino, ad opera dei terroristi palestinesi. Nel giorno della strage, avvenuta il 17 dicembre del 1973, hanno perso la vita 32 persone, tra cui il finanziere molisano Antonio Zara. Il comune di San Felice del Molise, paese d'origine del militare di 20 anni, nel corso di una cerimonia di commemorazione, ha ricordato il coraggio del finanziere che si è sacrificato nel tentativo di fermare i terroristi in azione. Antonio Zara è un esempio per tutta la nazione. Per noi finanziere in particolare, perché dal suo sacrificio noi ricaviamo forza ogni giorno nell'esplettamento dei nostri compiti sinduzionali al servizio delle nostre comunità. Non è stato un sacrificio vano quello del finanziere Zara. Il comportamento esemplare di Antonio Zara continua ad essere un modello da seguire anche per i finanzieri di oggi. Un sacrificio che va tramandato, va spiegato. Bisogna contestualizzare quello che è successo e bisogna far capire come è importante il servizio per il paese che ogni cittadino deve svolgere, non solamente noi che indossiamo l'uniforme e noi che indossiamo l'uniforme abbiamo tuttavia maggiori responsabilità, prestiamo un giuramento che comporta impegni importanti e dobbiamo essere disposti, se necessario, a sopportare qualsiasi sacrificio, anche quello più elevato della vita. Ci spostiamo a Disernia dove ci sarà una nuova seduta di Consiglio Provinciale oggi pomeriggio in prima convocazione, domani alle 19.30 in seconda convocazione. Unico punto all'ordine del giorno il piano di ridimensionamento della rete scolastica provinciale per l'anno 2024-2025. Sempre a Disernia l'accordo siglato tra il sindaco Pietro Castrataro e i gestori della stazione scistica di Roccaraso prevede sconti per i cittadini serrini che andranno a sciare nella località abruzzese. Il vicepresidente della regione Molise, Andrea Di Lucente, esprime il suo disappunto sull'accordo che penalizzerebbe le stazioni scistiche di Campitello e Capracotta. Alla polemica, il sindaco Castrataro risponde che alla Convenzione hanno già aderito da tempo molti altri comuni della provincia e che gli sconti riguardano solo gli abbonamenti agli schipass stagionali per coloro che hanno esigenze sportive e che gli impianti sciistici molisani non sono in grado di soddisfare. E l'assessore Michele Iorio parte da alcune considerazioni della Corte Costituzionale sulle condizioni della sanità in Molise, chiede ed auspica una unione di intenti e di lotta all'intero Consiglio regionale. La Corte Costituzionale, attraverso alcune sentenze, giunge alla considerazione che in fatto di sistema sanitario in Molise e nel percorso di commissariamento esistono vere e proprie anomalie che cancellano la maggior parte dei diritti dei cittadini e che dovrebbero essere trattate dallo Stato mettendo a disposizione sia uomini e mezzi adeguati che risorse finanziarie per superare ogni problema, a partire dal risanamento complessivo del debito. A queste considerazioni si ispira l'assessore Michele Iorio, quando auspica e chiede a tutti i componenti del Consiglio regionale un impegno condiviso ed un'azione comune di lotta verso un governo centrale che appare oggi consapevole di dover intervenire con proprie risorse nella vicenda. Un governo molto attento su questo punto, io ho già avuto interlocuzioni importanti a livello di Ministero della Sanità con i massimi livelli e anche dell'Agenas che è un'agenzia governativa di tutte le regioni che è un po' l'agenzia tecnica che guida la formazione dei piani e dà supporto anche alle regioni. Questi spunti che ci vengono dalle considerazioni non solo mie personali ma direi della Corte Costituzionale sono punti importanti. In definitiva la Corte in due sentenze una volta dice che la situazione nel Molise dopo 13 anni, veramente adesso sono 15 gli anni, è in una situazione anomala. Da un'altra parte, in un'altra sentenza, per altri motivi, dice che il commissariamento significa che lo Stato si deve impegnare con le migliori sue professionalità e anche con gli aspetti economici, cioè supportando e risolvendo il problema del disavanzo per risolvere le difficoltà di una regione in piano di rientro. Ecco, tutte e due queste cose non sono state ancora prese in considerazione da nessun governo. Questo governo invece ci sta pensando, ci sta ragionando e l'idea del cosiddetto decreto Molise, che più che altro io credo si tratti di decreti che possano inserire una nuova procedura superando la logica del commissariamento così come l'abbiamo vista in questi 15 anni penso che sia un fatto rilevante e importante. Di fronte all'obiettivo della salute dei cittadini io credo che ora si sono alternati in questi 15 anni i governi di centrodestra e i governi di centrosinistra, sia a livello regionale che a livello nazionale. Il problema è dei cittadini, il problema è di tutti e quindi io credo che se il Consiglio regionale avrà la capacità, la possibilità di togliere tutti i fronzoli o le cose secondarie che possono impedire un accordo e trovare le linee essenziali per fare una richiesta ferma, decisa al governo nazionale io credo che questa sia la strada che possa risolvere questa problematica. Altre forme di protesta possono essere utili ma non credo porteranno a nulla perché magari produrranno polemiche e qualche distinto. Io credo che occorre mettersi intorno ad un tavolo e ragionare sulle cose essenziali, poi ci possiamo dividere sul come, perché, per quanto. Io credo che questa regione deve avere la possibilità di organizzare una rete dell'emergenza, l'ho detto tante volte, che sia altissimamente sufficiente senza buchi e senza trasporti in ambulanze rispetto alle malattie tempodipendenti. E per la giornata di oggi è stato indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore da parte dei lavoratori del settore sanitario, medici, dirigenti sanitari, veterinari ed altre figure professionali dell'ambito sanitario aderiscono allo sciopero per opporsi alla legge di bilancio 2024 che non sosterrà adeguatamente il settore sanitario e che quindi non tutela la salute dei cittadini e non riduce le liste d'attesa. E proprio in merito allo sciopero del comparto sanitario nel Molise che la segreteria regionale del sindacato dei veterinari fa sapere che nel corso della giornata di oggi saranno sospese le visite di controllo e le ispezioni ordinarie, ma saranno garantiti gli interventi di soccorso urgenti e le ispezioni ed interventi nel caso di intossicazioni dovute al consumo di alimenti di origine animale. La CGL torna sul trasporto pubblico urbano e lo fa sottolineando il rischio di una regione destinata all'immobilismo. Numerose le emergenze, soprattutto in fatto di circolazione nelle città di autobus obsoleti ma anche di reti disorganizzate e difficoltà nell'uso del servizio per tutti i cittadini. Vediamo. La regione ha destinato molte risorse per l'acquisto di nuovi mezzi per la circolazione extraurbana, lasciando che il servizio nelle città venisse erogato attraverso l'utilizzo di autobus obsoleti. Lo affermano i dirigenti della Filt CGL, l'organizzazione sindacale che si occupa del trasporto pubblico urbano e dei suoi addetti. Afferma che si sta determinando una situazione da terzo mondo, dalla quale emerge che degli 85 autobus impiegati per il trasporto pubblico locale urbano, cioè quello attivato nelle città di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino, soltanto il 18,8 è classificato Euro 5 ed Euro 6, a fronte di un dato nazionale che racconta una copertura del 52,5%. Molti sono classificati Euro 3 e, in base a quanto previsto dal decreto infrastrutture, non potranno più circolare dal 1 gennaio 2024. Il tutto si declinerà in uno scenario drammatico. Basti pensare, per esempio, che a Campobasso da settembre scorso alcune frazioni sono state escluse dal servizio e che le contrate Foce e Feudo non hanno più il collegamento con la città, mentre le linee urbane pomeridiane di Uno Rosso e Uno Nero sono state accorpate con una conseguente dilazione dei tempi di percorrenza. A Isernia la situazione non è certo più rosea. Alcuni servizi importanti sono stati tagliati, sempre per mancanza di autobus e naturalmente con ripercussioni negative sull'utenza, come quella più fragile dei pensionati, portatori di handicap con difficoltà motorie e persone che non possono permettersi autopropria. Ripercussioni negative anche sul personale dipendente che, non avendo mezzi per lavorare, viene lasciato a casa. Oggi pomeriggio nella sede di Campobasso dell'Università degli Studi della Molise l'inaugurazione del nuovo Master di secondo livello Governance e Sostenibilità per le Montagne Italiane durante una cerimonia nell'Aulamagna dell'Ateneo. Il Master preparerà gli studenti alla gestione di progetti di valorizzazione territoriale e di tutela del paesaggio montano. Fino al 31 dicembre i cittadini sostenitori del Comitato No Pizzone 2 avranno la possibilità di partecipare ad un sondaggio in rete per votare l'illustrazione più bella che diventerà il logo degli striscioni da esporre durante le manifestazioni. La partecipazione al sondaggio potrà avvenire sul sito del Comitato sulla pagina Facebook dedicata. Studi classici e materie informatiche preparano i ragazzi del liceo classico al mondo dell'Università del Lavoro all'Open Day dell'Istituto Mario Pagano di Via Scardocchia illustrata l'offerta formativa. Un indirizzo scolastico che unisce la tradizione degli studi classici alle competenze necessarie per diventare i professionisti di domani. Nel corso dell'Open Day al liceo classico Mario Pagano di Campobasso docenti e studenti spiegano ai potenziali iscritti perché scegliere questo indirizzo scolastico al termine delle scuole medie. La scuola ha dato luogo a delle attività di laboratorio che hanno consentito ai ragazzi della scuola media di entrare nelle aule e di interagire con i nostri alunni che sono stati all'uopo preparati dai nostri colleghi docenti e tutor e responsabili dell'orientamento. hanno approcciato i percorsi anche in modo tale da conoscere le dinamiche della didattica che offre l'istituto che è un istituto che si è anche aperto alle nuove possibilità e infatti abbiamo un percorso di curvatura biomedica che consente ai ragazzi del triennio di affrontare anche in maniera più consapevole e responsabile il percorso che prevede l'orientamento verso la facoltà di medicina abbiamo la ventinovesima ora che arricchisce l'offerta formativa attraverso l'inserimento di una materia opzionale che i ragazzi possono scegliere fra varie opportunità storia dell'arte, scienze, informatica e musica e poi hanno la possibilità di potenziare la conoscenza dello studio dell'inglese anche in collaborazione con l'Accademia Britannica e quindi abbiamo un ventaglio di opportunità anche perché è stato profondamente rinnovato anche l'impianto dello studio delle materie scientifiche e infatti fin dal primo anno i ragazzi affrontano lo studio delle scienze naturali intese come scienze della terra e poi al terzo anno cominciano il percorso anche della fisica quindi speriamo che questa scelta e questo momento per loro importante sia costruttivo e anche in virtù della scelta futura che loro dovranno fare Oltre alle materie che si studiano tradizionalmente in un liceo l'Istituto di Via Scardocchia si apre anche agli studi di discipline più contemporanee Oltre appunto alla filosofia greco e all'inglese a quelle materie che si studiano in quasi tutte le scuole ci sono anche delle attività che noi possiamo definire come extrascolastiche perché noi facciamo anche laboratori di musica c'è anche un laboratorio di teatro poi facciamo anche la curvatura biomedica che quindi appunto ci proietta già sul mondo per esempio della medicina perché diciamo che quello che è l'obiettivo del liceo classico è appunto quello di preparare i ragazzi ad un futuro che possa essere diciamo di qualsiasi tipo quindi dare una formazione completa e permettere quindi ai ragazzi di scegliere quella che poi sarà la loro professione per praticamente il resto della vita siamo aiutati molto anche dai professori ad esempio che ci spingono proprio a fare queste cose perché alla fine la scuola non è soltanto studio la scuola è anche come dire socialità passione, dimostrazione di quello che sappiamo fare e quindi insomma vi invitiamo a venirci a vedere aiutare i ragazzini delle terze medie a capire quello che il liceo classico può dare che al di là delle materie normali come il latino e il greco che si sa che andranno a studiare anche aiutare loro a scoprire quali sono i loro talenti quindi al di là delle materie normali anche magari la musica oppure lo sport perché ci sono anche diversi tornei che facciamo anche con altre scuole e ciò non aiuta solo a livello personale ma anche a conoscere persone nuove quindi questo, il liceo classico è una scuola completa aiuta non solo in questi anni ma anche per tutta la vita Ci spostiamo a Termoli nella chiesa del Carmelo l'ultima data della rassegna musicale natalizia organizzata dall'orchestra Punto di Valore in memoria del professore Alessandro Di Palma Punto di Valore Punto di Valore che ho bisogno della tua presenza, che capire meglio la mia essenza. Questo sentimento volai... Un anno fa. E noi con le immagini e le interviste con alcuni dei protagonisti della serata, del Carmelo, con le immagini di Nicola Mastro Giuseppe, abbiamo ascoltato questi protagonisti. È stata una bella serata, è il nostro concerto tradizionale di Natale, la chiesa era cremitissima e come sempre dedichiamo questi nostri appuntamenti da un anno a questa parte al nostro caro maestro Alessandro. E qui in modo particolare in questa chiesa anche a Don Ulisse che ha visto nascere questo progetto ed è stato il primo a credere in questo progetto e a incitare i ragazzi fin dall'inizio. E abbiamo ricordato anche la nostra povera corista Sara che purtroppo un tragico incidente ci ha portato via. Loro sono sempre nel nostro cuore e lo spirito con cui abbiamo cantato e abbiamo suonato questa sera è veramente vicino a loro, vicino alle loro famiglie. E proprio perché anche noi in realtà siamo una grande famiglia, così come dicono tutti i nostri coristi, anche i bambini nuovi che sono arrivati, sentirsi uniti dalla musica rende veramente tutti molto vicini. E' veramente un privilegio poter fare queste cose qui a Termoli, anche perché come dicevamo nella presentazione non ci sono tante realtà di questo genere qui dalle nostre parti. e dieci anni fa aver creato questa realtà e dopo dieci anni essere ancora qui veramente ci inorgoglisce, ci rende veramente felici di poter fare qualcosa per i ragazzi qui a Termoli. Adesso le nostre previsioni meteorologiche prima della pagina sportiva. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali. Scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori. E in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Regime anticiclonico sul centro Italia, oggi giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, stellato dalla sera. Temperature stabili sul Molise comprese tra i 5 e i 16 gradi di Isernia, mentre per l'Abruzzo dalla minima di 2 gradi dell'Aquila ai 13, la massima a Pescara. Ventilazione nord-orientale, poco mosso il medio adriatico. Domattina tornerà a splendere il sole sulle due regioni. Valori atmosferici in ulteriore aumento, correnti meridionali. Dopo 16 turni di campionato, il Campobasso stacca la San Benedettese in testa alla classifica di Serie D. Il pareggio esterno per il Vasto Girardi a Tivoli, Termoli, rimontato e battuto dall'Aquila. Vediamo le grafiche del Giron F. Calcio di Serie D, sedicesimo turno i risultati. Matese-Real-Monte-Rotondo 0-1. Roma City-San Benedettese 0-0. Tivoli-Vasto Girardi 0-0. Alma-Fano-Avezzano 3-1. Atletico-Ascoli-Notaresco 1-1. Campobasso-Chieti 1-0. L'Aquila-Termoli 3-2. Sora-Fosso-Ombrone 0-0. Vigor-Senigallia United Riccione 2-1. Campobasso al comando con 33 punti. Segue la San Benedettese a 31. L'Aquila 30. Avezzano 28. Chieti 27. Vigor-Senigallia 26 punti. Roma City 25. Fosso-Ombrone-Notaresco a 24 punti. Sora 19. United Riccione 18. Alma-Fano-Vasto Girardi e Real-Monte-Rotondo a 16 punti. Atletico-Ascoli 15. Tivoli 14. Termoli e Matese chiudono a 13 punti. Nunque prestazione convincente del Campobasso che contro il Chieti conquista vittoria e vetta appunto solitaria della classifica contro un Chieti mai realmente in partita. Vetta solitaria per il Campobasso che ha l'Avicor Stadium batte anche il Chieti con un altro gol di Thomas Grandis. Una gara perfetta dei Rosso-Blu che risulteranno essere poi fin troppo generosi nel punteggio finale che poteva essere decisamente più rotondo. Dal primo minuto il debutto di Nicolas di Filippo in campo al posto dell'infortunato Gonzales Chieti mai realmente in partita. Anche se il primo squille dei Teatini con Masavud che dopo una serpentina nell'area locale lascia partire un sinistro debolissimo e fuori misura pallone a lato. Da lì è già monologo Campobasso smanaccia Serra sul traversone dell'omonimo centrocampista dei Lupi. Poi ci pensa Thomas Grandis ad infilare un destro dove nulla può l'estremo difensore abruzzese. Campobasso passa in vantaggio con un gol dell'Argentino al ventitresimo. Continuano ad attaccare i Lupi che ci provano dalla distanza con Persichini la conclusione però è disinnescata da Serra. Cavalcata di Pacilo che pesca in aria di Nardo l'ex vastese si divora per il gol del raddoppio. Sfortunato anche Luis Maldonado poco dopo la sua punizione millimetrica si infrange sulla traversa si salva ancora la formazione di Chianese. 1-0 al termine della prima frazione. Le immagini di Dario Antoniani ci proiettano nel secondo tempo che riparte sempre a tinte rosso-blu. Ancora una conclusione di Persichini al limite dell'aria questa volta però non ha grossi problemi Serra. Stessa sorte per la conclusione di Maldonado pochi minuti più tardi. Ancora un bel tiro da segnalare del numero 34 che non riesce a prendere le giuste misure per trafiggere la porta difesa da Serra nuovamente a lato. E dominio campobasso Antonello Serra riceve dalla destra un tocco corto di Maldonado. Conclusione sul primo palo chiamato agli straordinari l'estremo difensore opposto che smanaccia e mette in angolo. Il Chieti si fa vedere soltanto con il colpo di testa di Amet Foll. Troppo poco per poter gridare al risultato immeritato. Il suo esposito blocca con la solita sicurezza. Giornata sfortunata per Persichini che centra un nuovo legno con questo sinistro da fuori aria. Poi il fischio del direttore di gara. Il Campobasso vince meritatamente l'ennesima sfida ad alta quota e vola in testa la classifica in solitaria. Per il rosso-blu all'orizzonte il derby al Cannarza contro il Termoli. Il portiere Cerroni salva dalla capitolazione il vasto girare di Attivoli. Lo scontro diretto tra pericolanti termina con un nulla di fatto. Vediamo. La di ritorno per Rapanaro che è sterza. Entra in area dal lato corto di sinistra. Poi viene intercettato. Ma lontana Valentini. Ma la palla schizza buona. Ancora per il tentativo con il destro da parte di Ceccuzzi. Che costringe ad un grande intervento. Zappalà. Adesso il gioco che cerca di spostarsi sull'ISI. Ma c'è l'ottimo intervento di Montesi. Poi si va da De Marco. De Marco stoppa a seguire superando Camaracela. Sul destro De Marco che cerca l'angolo lontano con il destro. E un palo esterno tornato più centrale. Pronto a sganciarsi sulla destra. Come in questo caso con il servizio per Camilli. Che può andare da Maurizzi. Maurizzi avanza. Sfonda in area. Prova con il destro Maurizzi. Il pallone è alto. Buona azione. Fessi a finalizzazione. Campo allargando con l'esterno. Anton Giovanni. Vertice basso dalla mediana molisana. Va ad aprire a sinistra. Ecco Iacullo. Sovrapposizione. Ma preferisce il cross in mezzo per la spizzata. Pericolosa. Di Kaon. Larga. Oltre il pallo destro. Ha ricevuto qui Barone. Anzi Panaro perdonatemi non Barone. Iacullo. Anto Giovanni. Anto Giovanni vuole la conclusione. Alta di un soffio sopra la traversa. Cambia gioco l'isi da Iacullo. Attento Jurgens. Allontana Pellegrini. La palla è precisa per Camilli che la gira al volo con qualità a destra da Maurizzi. Maurizzi nello spazio che si è aperto proprio Camilli. Camilli con il destro murato da Camarama. Che bella azione della Tibur. Per Maurizzi. Maurizzi una deviazione a favorire adesso Camilli. Camilli se la porta verso il fondo. Arriva il cross. Collato opposto. in sforbiciata De Marco. Con i tempi giusti. Impatto però non perfetto. E allora pallone alto. Regolarmente la gamba Maurizzi sul secondo palo. Il servizio per De Marco. Perfetto di Santarelli. Stop buono di De Marco che se la porta sul fondo. Ma in mezzo Camilli di testa. Traiettoria. E si alza sopra la traversa. Nessun problema per Cerroni. Panaioli. Panaioli gira su se stesso evitando la pressione di Cercuzzi. Poi va in verticale la sponda di Gruzzi. Il pallone in area per Maurizzi che deve lasciarla lì. Perché in fuorigioco pallone rimesso in mezzo e parata. Dice Roni che la mette in calcio d'angolo. Gioca bene la Tiburra. Dunque Vastogirardi che è tornato a farsi vedere. Una seconda frazione che sembrava di marca Tiburtina. Qui Camarà se la fa. Scippare l'apertura per De Marco. De Marco. Appena dentro l'area scarica il destro. Ma il pallone si impenna. Cotto di Emma. E di testa a rimandare in avanti un difensore della Vastogirardi. Panaioli. E' riuscito ad allargare. Gioca la Tiburra. Ancora Panaioli. Con il destro dalla distanza Panaioli. Con due mani. Cerroni la alza sopra la traversa. Arbitro. Da uno sguardo al cronometro. Ma c'è ancora tempo. Pallone verso l'area. Non arriva la spizzata. Ma il pallone è buono. Perde Marco. Da limite De Marco. Con il sinistro. Si supera. Si supera Cerroni. E la mette. Il calcio d'angolo. Marco. Con il destro. Il calcio d'angolo rientra. Spizzata di testa. Doppia. E su questa azione. Termina. Tivoli. Vasto Girardi. Sul risultato. Di 0 a 0. Il Termoli illude nel primo tempo. Poi tracolla nella ripresa. Subendo tre reti in pochi minuti. Festeggiano dunque Rosso-Blu Aquilani. Alla prima occasione. Nel primo angolo del match. Il Termoli sfiora il vantaggio. Nella mischia. Spunta il piede di Ausvar. Col palo. Che clamorosamente. Salva Michelin. Ma il Termoli. Partito col piglio giusto. Nei primi minuti. Trova comunque il gol del vantaggio. Tre minuti più tardi. Quando una bella trama. Ben cucita da Hernandez. In becca. L'incursione di Esposito. Che col destro. Trova l'angolino. Alla sinistra di Michelin. L'Aquila a 0. Termoli 1. Rosso-Blu quasi increduli. E giallorossi. Bravi a chiudere gli spazi. Alle offensive locali. Al 34esimo. Dalla sinistra. Banegas si accentra. E porge a Persiani. Molto bravo a girarsi. Ma il suo destro. Colpito troppo con l'interno del piede. Finisce alla destra. Della porta giallorossa. Al 40esimo. Il Termoli. Che non ha mai smesso di giocare. Piazza il colpo del raddoppio. Dalla sinistra. Arriva il pallone giusto per Longo. Che colta pin. Sigla lo 0 a 2. L'Aquila cerca di reagire al doppio schiaffo. E con un cross a favore di Del Moro. Che in scivolata non riesce a impattare la sfera. Prova a dare senso a un primo tempo insufficiente. Che termina dopo un solo minuto di recupero. A rientro Cappellacci lascia negli spogliatoi del Pinto e del Moro. Per Alessandro è uguali. Da piazzato al quarto l'Aquila è anche sfortunata. Da corner è bravo Mantini a trovare il tempo giusto. Ma la traversa strozza l'esultanza del 23 rosso-blu. Al nono Alessandro può trovare lo spiraglio per il tiro in porta. Ma dopo il contatto con Uzzol cade a terra con giocatori e pubblico pronti a reclamare la massima punizione. Che muccignato di Pordenone non fischia. Passano tre minuti. E l'Aquila conferma di non avere feeling con la buona sorte. Quando il mancino di Angiulli va a baciare nuovamente i legni della porta a Termolese. Al quarto d'ora Cappellacci butta dentro i nuovi. Origlio e Marcheggiani prendono il posto di Mantini e Persiani. Il rosso-blu premono e al 21 riescono a riaprire la gara. Il cross di Alessandro trova la testa di Origlio che buca la porta a Termolese. col suo gol all'esordio. Nemmeno il tempo di aggiornare il taccuino che l'Aquila fa esplodere di gioia il gran sasso d'Italia. Attorno al venticinquesimo è ancora Origlio il protagonista. Col cross che arriva dalla sinistra che trova l'insuccata di un Banegas formato centravanti capace di trovare l'angolino per il 2-2. L'Aquila non si ferma. Attacca a testa bassa buttando il cuore oltre l'ostacolo. I cambi danno ancora ragione a Cappellacci che un minuto dopo la mezz'ora può alzare le braccia al cielo insieme alla sua panchina davanti all'ennesima sgroppata di Origlio che sul secondo palo trova il piattone di Alessandro che manda in estasi. Il popolo rosso-blu. Sorpasso avvenuto in un battito di ciglia e gara vietata ai deboli di cuore. Il termo li è tramortito mentalmente a pezzi tant'è che col passare dei minuti ci prova solo Grossi dalla distanza con un destro che non fa male a Michelin. Vince l'Aquila con un secondo tempo a dir poco perfetto. Una rimonta che ha il sapore della svolta soprattutto guardando alla reazione mentale e a una tenuta atletico-fisica davvero invidiabile. Calcio regionale prosegue la testa a testa tra l'Isernia e l'Aurora Alto Casertano nel torneo di eccellenza. Vediamo in proposito le grafiche del calcio a punto regionale. Calcio di eccellenza. Aurora Alto Casertano Cliterin a 5 a 2. Virtus Gioiese Turris partita rinviata. Campomarino Ripali Mosani 0 a 0. Boiano Isernia San Leucio 0 a 2. Olimpia Agnonese difesa Grande Termoli 4 a 2. Real Guglionesi atletico San Pietro 0 a 0. Venafro Castel di Sangro 2 a 0. Fortore Sesto Campano 1 a 1. Isernia San Leucio 41 punti. Aurora Alto Casertano 40. Castel di Sangro 26. Venafro 25. Real Guglionesi e Sesto Campano a 24 punti. Ripali Mosani 22. Polisportiva Fortore 21. Turris 16. Olimpia Agnonese 15. Boiano e Campomarino. Virtus Gioiese a 13 punti. Atletico San Pietro in Valle 12. Chiudono la difesa Grande Termoli 11 e Cliternina a 9 punti. Promozione. Esernia Fraterna Spinete 1 a 1. Real Prata Baranello 1 a 1. Atletico Torre Maggiore Locomotive Riccia 2 a 0. Bois Vairano Morcone 3 a 0. Forlum UNS Campo Basso 2 a 1. Montenero Altiglia Samnium 8 a 0. Calena Rocca Ravindola 5 a 2. Trivento Chaminade Campo Basso 3 a 1. Montenero Al Comando 35 punti. Atletico Torre Maggiore 32. Bois Vairano De Sernia Fraterna e Baranello a 31 punti. Trivento 27. Locomotive Riccia 26. Forlum 25 punti. Spinete 20. Rocca Ravindola 19. Juvenes 18. Real Prata 17 punti. Chaminade 13. Calena 11. Morcone 8. Chiude l'Altiglia Samnium a 0 punti. Calcio a 5 nazionale di Serie A2 Littil. Cus Molise esce sconfitto da Manfredonia con il risultato di 5 a 2 nell'anticipo della penultima giornata di andata del Girone B. Il quintetto del capoluogo lascia i 3 punti alla capolista e resta in fondo alla classifica soli 6 punti. Per gli universitari il Girone d'andata si chiuderà al Pala Unimol di Campobasso il 30 dicembre contro il Cesena. E quarto posto in classifica per la Magnolia Basket nel massimo torneo femminile di Palacanestro a San Martino di Lupari per le Molisane. Arriva l'ottavo successo stagionale su 11 partite disputate. 12esimo torno nella A1 di Palacanestro femminile. Risultati Virtus Bologna 6 San Giovanni 71 a 67. Battipaglia Basket Schio 50 a 98. Repower Milano Ragusa 52 a 76. San Martino di Lupari Magnoli a Campobasso 46 a 49. Brixia Brescia Oxygen Roma 74 a 62. Faenza Dinamo Sassari 68 a 74. La nuova classifica. In testa sempre il Venezia 20 punti. Basquets Schio 18. Virtus Bologna e Magnolia Campobasso 16 punti. Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari Dinamo Sassari a 12 punti. Ragusa 10. Brixia Brescia e Oxygen Roma 6 punti. Faenza 4. Repower Milano 2 chiude. Battipaglia a 0 punti. E questa è la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Vi ringrazio come sempre per essere stati innego. Grazie a tutti. Vi ringrazio come sempre per essere stati in natale. Grazie.